Giovedì scherzini, prendiamo atto di tutti gli scherzini del mondo possibili, chiamiamo call center, di solito vi chiamano voi, invece noi questa volta rivoltiamo le parti, riscattiamo disagio sociale, giovedì scherzini su Radio Russi, sempre con voi. L'edizione scherzini di giovedì 19 abbiamo collegato con noi Don Vincenzo Petturuto da Napoli che ci fa ascoltare la sua bellissima canzone Madonna degli Squallor Revisited Edited in quest'anno di merda 2023, l'edizione scherzini di oggi giovedì 19 è offerta da Polleria Manzi in via Gregana 128 a Russi che vi fa ascoltare il pezzo dello scherzino, vai metti su Pasqualetti Vai, vai, vai Ma è sempre occupato questo telefono Il telefono, la tua voce E ora, ragazzi e ragazzi, mi piace cantare questa canzone per mio amore E questa canzone è giusto per me, il maestro Joe Danzini Eccolo qui Oh, ma lì, la mia madre nina Cattie brilli di long town Only golden, little, little Oh, cattie domini, milano And the use of the life I sense the mic of the hand in hand Sing and teach them, tend and apple again When I'm coming to Milan What's happened, madonnaina? Perché tu sei così triste, madonnaina? Don't cry for me, madonnaina Tutta questa invasione di gente che è arrivata in Milano Senza passaporto Io non capisco perché, non capisco Oh, my little madonna And the use of the life I sense the mic of the hand in hand When I'm coming to Milan When I'm coming to Milan I'll pursue capire la line I sense the mic of the hand in hand I'm coming to Milan When I'm coming to Milan Allora cari amici vi è piaciuto il video? E allora fate like e iscrivetevi al nostro canale di Radio Russi, non perdete tempo che io ho bisogno di voi, ho bisogno di voi!